Siamo qui con i cittadini, stiamo raccogliendo le firme per il referendum consultivo sull'euro per far scegliere finalmente ai cittadini se in questa moneta unica ci vogliono stare oppure no. Con l'occasione vi invitiamo tutti quanti a venire in Assemblea Capitolina a partire da lunedì dove inizieranno i consigli sulla delibera 88, che è una delibera in cui il sindaco Marino mentre distrae l'opinione pubblica con le vicende tipo lo zoning, peraltro una butade contraria a leggi dello Stato oppure col nuovo simbolo di Roma sul quale cancella la sigla SPQR con altre cavolate del genere distrae l'opinione pubblica mentre si sta svendendo un patrimonio immobiliare di noi romani da 300 milioni di euro che sta dando anche con maxisconti a Onlus o altre organizzazioni di questo tipo con sconti fino al 30 o anche al 40%. Noi su questo abbiamo già presentato un esposto in Corte dei Conti con i nostri parlamentari, daremo battaglia in Assemblea Capitolina e se questo provvedimento dovesse passare anche presso altre autorità. Quindi vi invitiamo tutti, è importante, si stanno vendendo i vostri e i nostri beni, siate presenti in Assemblea Capitolina a partire da lunedì orario 14.18. Ciao a tutti!